Ha detto a tutti in diretta Facebook che stava per togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Una tragedia annunciata sul web ma fortunatamente evitata per un pelo, anche grazie agli utenti del social network che hanno visto il video e lanciato l'allarme. Protagonista è un ragazzo poco più che ventenne salvato questo pomeriggio dalla polizia ferroviaria a poche centinaia di metri dalla stazione di Barletta. Il giovane stava camminando sui binari. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a tirarlo via appena in tempo. Pochi secondo dopo è infatti sopra aggiunto un treno regionale. Fondamentali per l'arrivo tempestivo degli uomini della Polfer sono state le richieste di intervento giunte da alcuni passeggeri che si trovavano in stazione e che hanno visto il ragazzo allontanarsi lungo la ferrovia. Contemporaneamente anche gli agenti del commissariato di Barletta erano stati informati di quanto stava accadendo grazie ad una segnalazione della questura di Palermo. Questa a sua volta era stata informata da un utente di Facebook che aveva appena assistito alla diretta del ragazzo.